E ciao a tutti, questo video non è neanche montato, lo registro al volo per fare vedere agli amici di Fusion come la stessa animazione che abbiamo visto in Bluffed Title con i cerchi, andate a vederla, è il video prima di questo, lo otteniamo anche in Fusion nella stessa maniera, cioè con lo stesso principio. Abbiamo qui una sfera che possiamo vedere, eccola qua, a quale, se ecco io adesso vado a togliere questo, ecco vedete, è una sfera, eccola qua. Qui cosa abbiamo in background? Abbiamo le fasce esattamente come le abbiamo fatte in Bluffed Title, abbiamo fatto un background completamente rosso con delle maschere rettangolo, ho fatto tre maschere rettangolo come vedete, che vanno a formare queste fascette qui. Le vado a inserire nella sfera e quindi nella sfera viene mappato solo la fascetta, ecco qua le tre fascette. Sono andato ad animare singolarmente i rettangoli trascinandoli facendo di keyframe e ecco qua vedete lo stesso esatto, proprio vedete che si allarga, lo stesso esatto effetto che abbiamo fatto in Bluffed Title. Anzi, in realtà l'effetto era nato come effetto per Da Vinci, quindi Fusion e io l'ho riadattato a Bluffed Title. Dopo la sfera vedete un merge che serve solamente a ruotare la nostra sfera dove desideriamo, proprio uguale a Bluffed Title. Qui c'è il mondo 3D dove ci sarà la nostra telecamera che va a riprendere tutta la scena e qua abbiamo una luce direzionale che è quella che si sta riflettendo sul nostro oggetto. Qui è un attimino più al limite della memoria perché aggiungendo altre due cose rischia di andare un po' in crash. Invece avete visto come in Bluffed Title non ha nessun problema. Ecco ed ecco qua lo stesso effetto. Qua possiamo andare a duplicare la sfera e creare la sfera in centro. Basta copiare, incollare, la inseriamo qui nel merge, eccola qua. La andiamo a rimpicciolire e qua potremo con lo stesso principio andare a prendere la mappa e inserirla nel shape. E qua verrebbero i mondi come abbiamo fatto in Bluffed Title. Ecco, questo piccolo video era appunto non per rifare un altro tutorial ma per farvi vedere che la stessa tecnica può essere utilizzata anche in più programmi. Io sono sicuro adesso se io vado in Blender 3D riesco a ricostruire la stessa cosa. Faccio queste fasce, le do come mappa su una sfera e riesco a ottenere più o meno la stessa animazione. Bene, io vi ringrazio, pensate sempre così, siate aperti e non chiusi a un unico programma. Ovviamente devono essere programmi che permettono più o meno le stesse tecniche ma alle volte la stessa tecnica si raggiunge anche in modi simili se non c'è lo stesso tipo di programmazione. Grazie, alla prossima, ciao!